ci sono alcune cose che il successo non è non è fama, non è denaro o potere il successo è svegliarsi la mattina talmente eccitata per quello che devi fare che non vedi l'ora di uscire di casa è lavorare con gente che la pensa come te il successo è avere un contatto con il mondo è dare emozioni agli altri è riuscire a trovare un modo per unire persone che non hanno nulla in comune se non un sogno è andare a dormire la sera sapendo che hai dato il meglio di te il successo è gioia è libertà, è amicizia e il successo è amore